Asap Allevamenti Oggi cosa proponi ai nostri visitatori? Oggi propongo merce dal produttore a consumatore Tutto quello che vedete qua al 100% è prodotto nella nostra azienda Allevato, cresciuto, trasformato da noi nel pieno benessere degli animali Nella piena tradizione caccamese Quindi possiamo garantire la sicurezza di un prodotto genuino, buono, gustoso E tipico caccamese al 100% La storia è il futuro di questa azienda